Vai, ciao Auro, grazie mille per la linea, ci troviamo in Plaza Mayor qui a Madrid per la Zumo Sol Cup, corsa per finizio che racconteremo poi. Senza di te Auro mi sento un po' solo, mi sembra di essere sul caroscopo. Ma prima di tutto un commento tecnico sul tour, ha concluso sì da poco, vittoria del Kaiserjahn che ha un pochino monopolizzato la corsa e forse abbiamo esagerato. Abbiamo poco interesse anche se per la seconda ma soprattutto per la terza posizione, c'è stata baggata fino alla ultima tappa. Un tour interessante, sicuramente speriamo che il tour dell'anno prossimo sia più aperto a vittorie di altri corridori. Ricordiamo il tour dell'anno prossimo da Luda Meijugorja. Ci risentiamo dopo Auro, grazie per questo commento e ricordiamoci qui da Plaza Mayor per la Zumo Sol Cup.